Musica Prima edizione del nostro telegiornale, buongiorno e bentrovati. In primo piano le amministrative in Sicilia sono 128, i comuni al voto domani e lunedì per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali tra questi quattro capoluoghi di provincia Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Seggi aperti domani, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sentiamo tutti i particolari da Salvo Cuturi. Elezione amministrativa in 128 comuni dell'isola, in 113 si voterà con l'assistema maggioritario fino a 15.000 residenti, in 15 invece si procederà col sistema proporzionale. Seggi aperti domenica 28 dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio con le medesime modalità si tornerà al voto l'11 e il 12 giugno. I capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare la carica di sindaco e dei consigli comunali sono Catania, incluse le 6 circoscrizioni per l'elezione dei consiglieri di quartiere, poi Ragusa, Siracusa e Trapani. Al voto anche diversi municipi delle altre province. A Denna saranno 9 comuni alle urne, 32 in provincia di Messina, 25 nel Palermitano, 14 nell'Agrigentino e 5 in fine in provincia di Caltanissetta. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si applica il sistema elettorale maggioritario. Vince al primo turno il candidato che supera la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 50% più 1 rispetto all'avversario. Al di sotto di questa soglia sarà necessario il ballottaggio tra i candidati che avranno preso più voti. In seconda tornata, invece, ottiene alla poltrona di sindaco chi prende più voti. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti vige il sistema proporzionale. Solitamente la partita si chiude in un unico turno a Catania, incluse il capoluogo. I cittadini sono chiamati alle urne in 19 comuni, di cui 7 centri di sopra dei 15.000 abitanti, sistema maggioritario. Ovvero Aciriale, Belpasso, Aci Sant'Antonio, Biancavilla, Gravina di Catania e Masca Lucia. Nei restanti 12 comuni si voterà con la proporzionale e senza possibilità del voto disgiunto. Il ballottaggio, tuttavia, si ottiene solamente nel caso in cui due candidati ottengono lo stesso numero di voti. Campo Ordon del Tenneo, Castel di Udica, Maretto, Mineo, Piedimonte, Tenneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venina, Sant'Alfio, Valverde e Via Grande andranno dunque con la proporzionale. Per i cittadini che hanno esigenze del rinnovo della testa elettorale, gli uffici elettorali saranno aperti anche nella giornata di domani, domenica, per il rilascio dei duplicati. Rete infrastrutturale, ponte sullo stretto e caro materiali. Se ne è parlato a Taormina, al convegno celebrativo del sessantesimo anniversario della FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani. Presente tra gli altri il ministro Salvini. È andato per noi Mario Grasso. 10.000 associati, 70.000 veicoli, 36 associazioni territoriali, 60 anni. La Federazione Autotrasportatori Italiani Conf Trasporto, Conf Commercio celebra il sesto decennio di attività a Taormina, nell'assise nazionale che ha ospitato anche il ministro per le infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini. Connettere l'Italia, è stato sottolineato durante il convegno, è una urgenza che riguarda la permeabilità dei valichi alpini, il Brennero e il Monte Bianco, ma anche la strozzatura tra Villa San Giovanni e Messina, che farebbe perdere ai siciliani 6 miliardi e mezzo di euro l'anno, secondo i dati negativi del PIL regionale isolano per la mancata realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. La digitalizzazione, la carenza degli autisti, la sostituzione dei mezzi obsoleti, ma anche la doppia velocità tra le varie motorizzazioni nel rilascio, sono alcuni degli altri temi toccati nel sessantennale della FAI. Salvini ribadisce il ponte sullo stretto di Messina, anzi il ponte degli italiani si fa. Sarà una parte di una rivoluzione culturale, economica e sociale che viverà tutta Italia, non solo la Sicilia e Calabria, nei prossimi anni, incredibile, che ricorderà quello che i nostri genitori e i nostri nonni hanno fatto nel secondo dopoguerra. Stiamo investendo 28 miliardi di euro in strade e ferrovie in Sicilia e altri 28 in strade e ferrovie in Calabria, e quindi il ponte, che magari 15 anni fa sarebbe stata una cattedrale nel deserto, oggi è la logica congiunzione per arrivare velocemente in treno, in macchina, in camion, da Palermo a Roma, Milano, fino a Berlino, e le imprese di tutta Italia ne gioveranno e anche i porti siciliani saranno sicuramente molto più attrattivi. La Sicilia è terra di autotrasportatori, anche i patroncini locali hanno avuto problemi nell'attraversamento del Brennero, quindi Austria, eccetera, ma come sta storia, come funziona? Giovedì sarò in Lussemburgo a incontrare gli altri ministri dei trasporti europei perché l'Austria sta infrangendo le leggi. Chiederò, insieme al collega tedesco, l'apertura ufficiale di un'infrazione nei confronti del governo austriaco che sta commettendo un'illegalità. I camion, i treni dovranno viaggiare su strade, su ferrovie, il ministero, lei ha detto poco fa che si è impegnato, ci sono 28 miliardi per la Sicilia, altrettanto per la Calabria, però poi ci sono le aziende che hanno avuto il caro materiali, ha spiegato di autocertificazione, di cosa si tratta? Sulle delizie c'è l'incremento dei prezzi che per la guerra, per il caro bolletti ha riguardato tutte le aziende, tutti gli appalti, e siccome la burocrazia non riesce a pagare in tempo e non vorrei che aziende fallissero perché lo Stato non paga, ho chiesto ai miei tecnici di usare la strada dell'autocertificazione, siccome io mi fido degli imprenditori, dei sindaci e dei liberi professionisti italiani, tu mi autocertifichi che hai avuto maggiori oneri per lavori fatti, non lavori inventati, per X euro, io te li bonifico, tu lavori, se poi mi hai fregato io ti controllo a posteriori e la giustizia fa il suo corso, però non posso avere delle aziende che falliscono perché lo Stato ritarda a pagare quello che deve. Paolo Uge è il presidente di Fai, Comf Trasporto Comf Commercio. Abbiamo da sempre riconosciuto la necessità che la Sicilia diventi realmente parte del mondo continentale, e quindi partecipi con le sue potenzialità che sono grandissime, con le sue grandi opportunità che gli vengono date da essere la piattaforma più avanzata del Mediterraneo a quello che è la situazione, le iniziative dell'economia per il nostro Paese. Quindi noi come Fai abbiamo subito sposato l'esigenza del ponte sullo stretto perché è la risposta che dà un'opportunità notevole non solo a 5 milioni di italiani ma anche a un'economia di gente che è in grado certamente di far diventare competitivi i prodotti siciliani più di quanto non lo siano oggi, che sono stupendi. Cronaca, nuova aggressione ai danni di personale sanitario è accaduto all'ospedale civico di Palermo. I carabinieri hanno arrestato una donna di 36 anni. Tutti i particolari li sentiamo da Luca Licata. Presa da un raptus di violenza avrebbe prima minacciato e aggredito il personale sanitario di turno del pronto soccorso poi danneggiato alcune attrezzature mediche dell'ospedale civico di Palermo. Dopo quanto accaduto i carabinieri nella stazione Oreto intervenuti hanno arrestato una 36enne. La donna palermitana sarebbe andata in escandescenza perché i medici sarebbero stati troppo lenti nel garantire le cure necessarie al padre 63enne in quel momento ricoverato in ospedale. Nel corso dell'aggressione un'operatrice socio-sanitaria ha riportato lesioni al volto. Giudicate e guaribili in pochi giorni. La donna, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo, al momento è sottoposta agli arresti domiciliari. Le accuse nei suoi confronti sono di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, lesioni, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Dopo quanto accaduto e alla luce dell'escalation di aggressioni a medici e infermieri sono in fase di definizione i posti di polizia nei ospedali. Il questore di Palermo ha deciso in queste ore di aprire un posto fisso all'ospedale policlinico. dalle 8 alle 20, previsto anche il potenziamento della presenza delle forze dell'ordine all'ospedale civico dalle 7 di mattina all'una di notte e dalle 8 alle 20 al Buccheri Laferla. Cronaca ancora avrebbe fatto irruzione armato in un bar dello stradale Cravone a Catania e costretto le cassiere dietro la minaccia a consegnargli 1.500 euro in contanti e alcune stecche di sigarette per poi dileguarsi tra i clienti che facevano carburante all'esterno. Adesso i carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno arrestato un pregiudicato di 49 anni, Santo Alessandro Galeano, con l'accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono al 7 gennaio scorso. Le fasi della rapina sono state registrate dalle immagini e dall'impianto di videosorveglianza e le immagini acquisite dai militari. Galeano è stato riconosciuto, si legge in un comunicato della Procura. Anche dalle stesse vittime all'indagato è stata notificata l'ordinanza in carcere a Piazza Lanza dove era già detenuto per altri motivi. I carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno denunciato 6 persone, 4 delle quali già note alle forze dell'ordine per rissa aggravata e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procedendo contestualmente alla sospensione per 7 giorni della licenza di un'attività commerciale nel corso della festa patronale di Grammichele. I militari della locale stazione sono intervenuti su segnalazione giunta al 112 nei prassi di un bar di Corso Roma dove era appena avvenuta una rissa, nel corso della quale agenti della Polizia Locale intervenuti per cercare di calmare gli animi sono stati gravemente ingiuriati nel corso del loro intervento. Da qui anche la denuncia per violenza o minaccia a pubblico ufficiale. La Caritas ha presentato il quinto report dell'Osservatorio della Povertà. Cresce il numero di italiani assistiti dall'Help Center del capologo etneo. Francesco Larosa. Un cuore che vede dove c'è bisogno di amore. E' questo lo slogan che accompagna il quinto report dell'Osservatorio della Povertà e delle Risorse presentato stamattina dalla Caritas Diocesana di Catania. Forniti dati registrati dai servizi Caritas durante il 2022 con i dati riportati dalle sezioni parrocchiali e dalle associazioni che operano in città e nei comuni. Limitro fin molte forme, varie anche le testimonianze che hanno contribuito alla realizzazione del report. Ecco, il risultato di questo quinto report dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse è un aumento della povertà e degli interventi da parte della Caritas Diocesana di Catania di circa 10.000 interventi e attenzione in più rispetto al 2021. Da questi dati cosa vogliamo comunicare qua alla società civile e religiosa ma soprattutto è qua alle istituzioni. Dobbiamo impegnarsi di più nella formazione e soprattutto nel dare lavoro perché vedete alla base di tutto c'è questa perdita della dignità del lavoro cioè c'è un aumento della disoccupazione. Allora speriamo che il nuovo governo a livello nazionale e il nuovo governo a livello cittadino possa fare qualche cosa di più in questa direzione per restituire dignità a ogni uomo e a ogni donna. C'è stato un aumento sostanziale, la Caritas sempre in primo piano per cercare di tamponarla dove è possibile. Certo, noi non possiamo sostituirci, come dire, alle istituzioni. Noi facciamo di tutto per venire incontro, non so, per il micocredito attraverso l'aiuto alle famiglie, non solo per la mensa non solo anche per i farmaci, non solo anche per la rete sanitaria non solo anche per le docce, anche per un taglio di capelle però vedete c'è questa povertà che significa mancanza di lavoro. Allora, ripeto ancora una volta, le istituzioni devono fare qualcosa di più per ad esempio la dispersione scolastica e anche questo è un altro dato per anche dare un tetto a tante persone che vivono per strada anche questo è un'altra povertà ma soprattutto dico nella formazione tanti giovani devono lasciare la nostra città per trovare un lavoro, per quale motivo? Ecco allora, impegniamoci di più in questa direzione. C'è stato un aumento anche degli italiani al di là di quello che poi è il fenomeno dell'immigrazione? E ormai vengono in carità, si dice sano, sono 50% italiani e 50% ecostranieri la maggior parte sono uomini, più del 60% ecco che vengono da noi persone che si aggirano dai 34 ai 54 ecco d'età dunque una fascia media ecco ma siamo lì, vedete tanti catanesi si rivolgono ecco a noi una volta erano l'80% ecco degli immigrati ma adesso siamo il 50% e il 50% dunque questo dato, ecco questa povertà deve, ripeto, interrogare le nostre istituzioni e dobbiamo, dico, denunciare anche questi fatti attenzione, non possiamo rimanere indifferenti dinanzi alle povertà di oggi anche la comunità cristiana si deve interrogare con non solo le istituzioni in collaborazione possiamo fare qualche cosa di più Santa Messa inclusiva nella chiesa di Acicatena presieduta dal Vescovo di Aciriale Monsignor Raspanti presenti i ragazzi della Catechesi e molti ragazzi disabili con le loro famiglie Salvo Couturi Santa Messa inclusiva stamani nella chiesa madre di Acicatena a conclusione di un percorso formativo iniziato due anni addietro con l'obiettivo di accogliere ragazze e ragazzi con disabilità nei percorsi della comunità pastorale tanto che in chiesa erano presenti gli avvisi esplicativi corredati di disegni rafforzando così il linguaggio comunicativo a seconda della disabilità o difficoltà di apprendimento dei partecipanti alla funzione religiosa istituzioni locali e i familiari oltre agli operatori della formazione del centro AIA sedicinale uno dei più grandi organizzati della Sicilia dotato di strumentazione all'avanguardia nella cura di persone con mobilità ridotta o con handicap cognitivi ed è proprio dalla collaborazione tra diocesi e centro di riabilitazione che è stato possibile intraprendere questo percorso inclusivo organizzato da Don Carmelo Sciuto direttore dell'ufficio fede e catechesi della diocesi 10 reale regionale su disposizione della Cesi la conferenza episcopale siciliana preseduta da Monsignor Antonino Raspanti la tematica della disabilità è al centro di iniziative rivolte non solo ai soggetti con particolari difficoltà ma è stesa anche ai familiari il momento celebrativo ufficiato dal vescovo Raspanti ha richiamato centinaia di persone nella chiesa della matrice la comunità cristiana promuove la catechesi inclusiva attraverso informazioni supporto e accompagnamento la collaborazione con i centri specializzati risulta di fondamentale importanza per avviare quei percorsi di integrazione reali di cui la chiesa da sempre si batte promuovendo le molteplici attività a sostegno abbiamo oggi la giornata concursiva di un percorso che è partito a gennaio di formazione di tutti i catechisti e tutti i responsabili oratori della diocesi di Aceriale questa stretta collaborazione tra Aias istituzioni e pastorella di Aceriale e pastorella giovanile ci permette di far sì che l'inclusione diventi un diritto per tutti la giornata di oggi rappresenta il giusto coronamento del cammino intrapreso dall'Aias in collaborazione con la diocesi di Aceriale Sono contento di fare questa messa che conclude un lunghissimo percorso iniziato quasi due anni fa insieme a questa associazione dell'Aias il quale ci ha chiesto di capire come all'interno delle nostre parrocchie sia per la catechesi, sia per i giochi sia ovviamente per le liturgie come se era possibile superare una serie di barriere da quelle architettoniche a quelle psicologiche a quelle di linguaggio che ostacolava l'inserimento pieno appunto inclusivo di tutti i ragazzi anche le ragazze anche quelle che hanno difficoltà abbiamo fatto un corso con tanti i nostri catechisti con giovani operatori e oratori adesso siamo a conclusione di questo prima grande corso molto frequentato ogni 15 giorni credo che ci sono state delle lezioni di specialisti e dunque siamo veramente contenti che sia aperta una porta tanti prima bussavano alla nostra porta dicendo anche i nostri limiti che sono ancora tanti però questo finalmente soprattutto dal punto di vista della cultura e della mentalità ci siamo un po' più aperti oggi quindi è un giorno veramente di festa commemorare la strage di Capaci attraverso la pulizia e la riqualificazione di spazi a verde a Catania volontari all'opera nel Parco Falcone un modo fattivo diverso e pratico di commemorare l'anniversario della strage di Capaci con interventi di pulizia e riqualificazione ecologica di spazi a verde della città per il settimo anno l'associazione Nuova Acropoli unitamente a città insieme a Plastic Free si rende protagonista dell'iniziativa denominata Capaci per cambiare con opere di pulizia e manutenzione del Parco Falcone con dedica particolare per il magistrato ucciso 31 anni fa Nuova Acropoli ha da sette anni organizzato questa attività con il supporto di città insieme questa attività si chiama proprio Capaci per cambiare perché vuole utilizzare un evento che ahimè è stato drammatico per tutti i siciliani e per tutta l'Italia ma affinché possa far nascere un cambiamento utile e fattivo in ogni cittadino e quindi rendere onore non solo commemorare rendere onore con i pensieri con le parole e con le azioni chi si è speso per la legalità e per il bene della Sicilia e dell'Italia tutta Lavori importanti di riqualificazione non soltanto di pulizia in questo parco Assolutamente sì abbiamo iniziato questi lavori qualche settimana fa abbiamo smontato alcune panchine abbiamo fatto dei lavori quindi presso la nostra sede abbiamo ridipinto le assi le abbiamo ristrutturate e adesso le stiamo rimontando in alcune sono scritte delle frasi filosofiche proprio per poter ispirare i cittadini anche nel frequentare un parco cittadino normale stiamo pulendo i giochi che sono stati installati ultimamente quelli in metallo quindi con i solventi proprio per togliere i graffiti stiamo ridipingendo i giochi più vecchi stiamo ridipingendo le panchine ovviamente stiamo facendo la pulizia ecologica con la raccolta differenziata in questo in primis se ne sta occupando plastic free stiamo ridipingendo i pali della luce e abbiamo recuperato dall'ufficio manutenzione dei cestini dell'immondizia dismessi li abbiamo ripristinati e li stiamo montando qui al parco dove erano necessari plastic free impegnata in questa operazione che è di pulizia ma anche di sensibilizzazione sì siamo qui in collaborazione con un evento organizzato appunto la nuova acropo e le città insieme felicissimi di poter contribuire anche in questa occasione alla sensibilizzazione attiva attraverso la pulizia dell'ambiente contiamo sempre di sensibilizzare attraverso l'esempio non ci perdiamo d'animo in questo senso anche se ci sono sempre motivi per farlo ma è un'occasione sempre buona per continuare questo nostro lavoro è importante pulire riqualificare ma poi puntare anche sulla collaborazione della gente per mantenere il tutto in ottimo stato sì noi infatti ad ogni evento abbiamo il piacere di avere persone che si fermano vogliono chiedere informazioni vogliono unirsi a noi ed è una buona cosa effettivamente per chi fa questa attività ci incoraggia a continuare perché la gente nota questi gesti e vuole fare qualcosa anche diciamo per aiutarci ci occupiamo adesso dell'assemblea provinciale della UGL comunicazioni di Catania si è svolta stamattina ed è stato rinnovato e riconfermato il direttivo stamattina in un noto stabilimento balneare del litorale catanese si è tenuto il congresso della federazione provinciale UGL comunicazioni Catania con la presenza dei lavoratori del settore durante l'incontro non sono mancati spunti di riflessione sul settore finanziario e l'annoso problema del precariato causato dallo smoderato utilizzo dei contratti a tempo determinato riconfermato dopo tre anni il segretario provinciale Simone Summa che durante il suo intervento ha sottolineato la sua costante presenza nei luoghi di lavoro l'ascolto attivo dei colleghi per raggiungere l'obiettivo del benessere comune le riconferme non sono mai scontate oggi in questa bellissima sise sono stato riconfermato nel mio ruolo di segretario di federazione UGL Comunicazioni e questo mi rende veramente orgoglioso per il profuso impegno che abbiamo dimostrato in questi ultimi tre anni per la lotta sindacale anche in periodi di covid dove non c'era permesso neanche di uscire da casa quindi cosa dire un grazie a chi è intervenuto un grazie al lato politico e soprattutto all'onorevole Galvagno della sua presenza un grazie a tutti i segretari di comparto di federazione di categoria il nostro lavoro continua oggi è solo un punto di partenza ci aspettano quattro anni duri dove contiamo ancora una volta di sovvertire i pronostici e di crescere ancora con UGL Comunicazione chiudiamo i congressi dell'STC che è il momento democratico più democratico dell'organizzazione perché sono presenti tutti gli iscritti e gli iscritti decidono sul futuro dell'organizzazione quindi un momento di democrazia un momento di scelte un momento di prospettive in un'epoca dove i cambiamenti sono continui e repentini il ruolo del sindacato ha anche l'obbligo di muoversi con una visione futuristica visto che in ambito nazionale si inizia a parlare di robotica e intelligenza artificiale come affermi il segretario nazionale UGL Comunicazione Salvatore Muscarella all'interno della nostra diciamo federazione in questo momento si sta dibattendo quello che tutti parlano che è l'intelligenza artificiale è un argomento molto importante e stiamo cercando di capire che finalità poi ha o che incidenza potrebbe avere sulle varie categorie è un momento ancora diciamo come dire all'inizio di questa situazione quindi per quanto riguarda poste per quanto riguarda RAI per quanto riguarda la RAI faremo dei convegni mirati proprio per capire se inciderà molto sul piano occupazionale o sul piano occupazionale o addirittura sulla tenuta o sulla veridicità della libertà anche personale Voltiamo ancora una volta la pagina all'Università di Palermo con Fedida la laurea onoris causa in medicina alla virologa Ilaria Capo l'abbiamo incontrata l'irologa divulgatrice scientifica ed ex parlamentare della Repubblica Ilaria Capo ha per oltre 30 anni a diretto i più importanti gruppi di ricerca nel campo delle malattie infettive trasmissibili dai animali sviluppando inoltre il concetto di salute circolare oggi Ilaria Capo è uno dei pochi cervelli di ritorno come si è definita lei stessa dopo aver trascorso sette anni negli Stati Uniti ha deciso di tornare in Italia durante il periodo della pandemia da Covid-19 si è distinta gettando luce su un virus di cui si conosceva poco e niente ieri durante una cerimonia che si è svolta la presenza di numerosi studenti del Don Bosco Ranchibile la società italiana di storia della medicina gli ha conferito il diploma di socio onorario io sono un cervello di rientro e spero di diventare un esempio per altri ricercatori italiani che sono all'estero perché l'Italia e l'Europa ha bisogno di idee che vengono da fuori e quindi l'oro di oggi è l'oro grigio e quindi insomma spero che con le molte esperienze che ho vissuto perché ho avuto diverse vite tra cui l'ultima appunto negli Stati Uniti di poter portare delle idee degli orizzonti nuovi ai ragazzi italiani e ai ricercatori italiani la società italiana di storia della medicina che è la più antica società scientifico culturale d'Italia ha deciso di dare la membership di socio onorario alla professoressa Capua perché nella lunga vicenda del covid si è dimostrato come nel passato una delle persone che più ha lottato con risultati positivi oggi Ilaria Capua è divenuta famosa e considerata una delle voci internazionali più autorevoli della virologia l'Università degli Studi di Palermo ha deciso di conferirle la laurea onoris causa in medicina e chirurgia si tratta di un primato la dottoressa Capua infatti è il primo medico veterinario a ricevere in Italia questo riconoscimento ha un valore grandissimo per me ma in realtà è un doppio riconoscimento perché non sono solo la prima donna e non voglio essere l'ultima che riceve questo riconoscimento dall'Università di Palermo ma sono il primo medico veterinario in Italia che riceve questo riconoscimento e questo è un cambio di paradigma e quindi ringrazio molto l'Università di Palermo perché ci ha visto lungo in Italia siamo molto più protetti di quanto non lo siano i cinesi e quindi io prima di preoccuparmi cercherei di capire che cosa sta succedendo lì ma comunque noi abbiamo avuto accesso ai vaccini in Cina non hanno avuto così tanto non hanno avuto così tanto accesso pesca a strascico e guerra tra l'Unione Europea e i pescatori a rischio per chi va per mare il sistema economico della pesca ci sono altri modi per tutelare il mare dicono anno 2030 l'Unione Europea vieta la pesca a strascico l'annuncio ha scatenato proteste da parte dei pescatori che da settimane combattono contro questa decisione che affermano a Bruxelles è stata assunta con troppa superficialità la proposta della Commissione mira in sostanza a ridurre le catture eccessive la distruzione dei fondali marini e la pesca di catture accessorie come le tartarughe e gli squali ma la misura è ritenuta troppo drastica metterebbe in ginocchio uno comparto già in grave difficoltà da qui la richiesta di un compromesso anzi di una nuova strada che possa salvare capre e cavoli come proteggendo le coste indicando un maggior numero di aree considerate vulnerabili per evitare appunto la distruzione secondo i pescatori sono a rischio quasi 3000 pescherecci con conseguenze economiche sull'occupazione e sui consumi davvero rilevanti le misure sono insostenibili sia dal punto di vista economico che sociale confermando come circa il 68% delle aree marine è già escluso dalla pesca strascico e che esistono divieti oltre i mille metri di profondità Bruxelles invece vorrebbe includere altri 17.000 chilometri di siti nell'ambito del pacchetto Natura 2000 e questo secondo i pescatori delle diverse associazioni comporterebbe l'abbattimento totale della pesca strascico i pescatori si dicono pronti a salvaguardare l'ambiente marino ma temono per il proprio posto di lavoro e dunque l'11 e il 13 giugno a Stoccolma sarà a battaglia prima della riunione ufficiale prevista in Lussemburgo per il 26 e 27 giugno anche la regione siciliana segue la vicenda i pescatori siciliani che il governo sta supportando nei tavoli ministeriali e nei confronti anche alla comunità europea difendono non uno status ma una peculiarità la Sicilia da occidente a oriente ha caratteristiche territoriali totalmente diverse noi esaltiamo la piccola pesca tradizionale ma mettiamo al contempo le grandi flotte dei pescatori nelle condizioni di potere pescare i nostri mari per tanti anni il settore è entrato in crisi oggi più che mai nei confronti dei paesi dell'eurozona e dell'euro mediterraneo abbiamo una visione chiara di come vanno accompagnati i nostri pescatori ma soprattutto tutelati per portare di nuovo il nostro mercato ittico ma soprattutto il nostro prodotto interno a scalare le classifiche ai mercati nazionali voglio ricordare che la Sicilia ha la più grande flotta di pescatori dell'intero paese motivo per il quale abbiamo sempre chiesto e chiediamo come governo Schifani attenzione alla parte del ministero si terranno lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Francesco di Favara nell'agrigentino i funerali di Antonio Amendoli a il 13enne che ieri pomeriggio ha perso la vita a causa di un incidente stradale in via Portella il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino il ragazzo era in sella come passeggero di uno scooter il cui conducente ha perso il controllo entrambi gli adolescenti sono finiti violentamente sul selciato il conducente è rimasto illeso mentre Mendolia ha sbattuto la testa ed è morto sul corpo con questa triste notizia ci fermiamo la linea va alla regia per la pubblicità ma non abbiamo finito ci rivediamo subito dopo per le previsioni del tempo e le eventuali ultimissime dopo la pubblicità consueto sguardo alle previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani domenica 28 maggio il cielo sulla Sicilia sarà parzialmente nuvoloso sereno i venti deboli i mari mosso il Mediterraneo calmi il Tirreno e lo Ionio le temperature oscilleranno nell'isola da 10 gradi Aenna a 29 a Siracusa a Catania e nell'Interland a 18 gradi la minima 27 la massima nessuna notizia dell'ultima ora termina qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it o sul nostro canale youtube un nuovo appuntamento in diretta con la nostra informazione alle 19.45 grazie per averci seguito buon pomeriggio grazie per aver guardato